Buonasera a tutti e benvenuti. Elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Trump-Biden, novembre 2020. Campagna elettorale in essere già da tempo, se vogliamo anche anticipata da tutta una serie di fatti di qualunque genere, ma per lo più, se non erro, razziali, violenze, disordini, Covid, fra i due contendenti. Ora, diciamocela francamente, o ve la dico io perché non posso interpretare il vostro pensiero, Trump non simpatico dal punto di vista fisico, dal punto di vista dei toni, dal punto di vista dei modi, dal punto di vista dell'approccio, lasciamo perdere tutto il resto. Guardiamo la faccia perché negli Stati Uniti ci mettono la faccia in queste elezioni presidenziali, conta l'apparire molto spesso. Biden, io lo dico, non ce la può fare, non lo vedo, non è antipatico, è qualcosa che non si riesce ad acchiappare, quindi in altri tempi si sarebbe detto sgusciante, si sarebbe detto un po' inafferabile. Non capisco bene, mi sembrano dei cliché, vedo sempre lo stesso modo. Il non ce la può fare è ironico, ovviamente, ed è ironico perché in realtà il Partito Democratico è in netto vantaggio sul Partito Repubblicano e quindi tutti a dire da parte democratica questa è la volta buona, ce la facciamo, rimandiamo a casa il tycoon, quel borioso e arrogante personaggio che tratta male le donne, eccetera, eccetera, e prendiamo possesso di questa America. Non lo so, ho qualche perplessità, non tanto perché io non credo ai sondaggi, ma non credo ai sondaggi e a quello che poi hanno un pochino fatto e dato durante le scorse campagne presidenziali, ma in realtà perché sono abbastanza convinto che alla fin fine tantissime persone, senza dirlo perché qui diventa quasi anche un pochino un atto peccaminoso dire andrò a votare Trump, ma voteranno il Presidente in carica degli Stati Uniti. Lo dico perché poi ovviamente ci sarà tutto il siparietto noto e arcinoto della trasparenza, dei brogli, delle accuse, dell'Ohio, del Wisconsin, peraltro tutti quegli Stati un pochino al limite, in bilico dove ci sono stati anche grandi episodi di violenza e controviolenza razziale, quindi la polizia, le persone di colore, i pazzi scatenati a 17 anni che sparano sulla folla, i movimenti di protesta, il mondo di Hollywood che protesta, ma protestava anche prima, in una kermesse elettorale che ancora non è giunta al capolinea e quindi ancora ci riserverà una serie di sorprese di ogni genere, perché poi gli americani amano scavare nel privato, amano andare a toccare la persona. Faccio solo una piccola valutazione mia personale, se lo avete notato, durante queste campagne elettorali parallele e contrapposte, sino a quello che poi sarà il dibattito finale, il testa a testa, dove la personalità, ripeto, emergerà e questo potrà forse essere un problema per Trump che emerge troppo, che è troppo invasivo, che è troppo eccessivo e diventa forse il primo nemico di se stesso. Se Trump mantiene il tono sobrio, come ho visto consigliargli dai suoi vari collaboratori, il ragionamento di base, di fondo che io ho percepito e ribadisco io ho percepito, nel buttare in mezzo gli argomenti da campagna elettorale vedo i repubblicani che mettono al primo posto l'economia, mettono al secondo posto il nucleare, abbiamo la bomba che nemmeno la Cina e la Russia se la sognano, mettono sempre in questo i rapporti con l'estero, con la Cina, con gli Stati Uniti che hanno ripreso quella padronanza geopolitica mondiale che prima avevano perso, mettono in fondo le proposte e mettono alla fin fine, all'ultimo, il Covid, esattamente al contrario la scaletta dei democratici. Al primo posto il Covid, non sei riuscito, non hai fatto, non sei stato capace, al secondo posto la questione razziale, ce l'hai con i neri, ce l'hai con gli ispanici che in realtà anche i messicani forse hanno votato un po' di più, al terzo posto le proteste e all'ultimo posto l'economia, la geopolitica, il sociale, il primato degli Stati Uniti nel mondo e allora chi e che cosa voteranno gli elettori americani, anche in silenzio, anche magari annunciando così votazioni diverse, lo vedremo sicuramente a novembre. Stiamo attenti ai sondaggi e a quello che poi invece sarà la realtà. Grazie.